Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il magazine di Telecosta Smeralda, parliamo di trasporti ma questa volta per dare una bella notizia, Aero Italia, titolare delle rotte in continuità dagli scali di Alghero e Olbia per Roma e per Milano, è la compagnia che ha generato il minor numero di disservizi con una percentuale minima dello 0,5%. È stata l'estate dei ritardi, dei disagi, del caos nei cieli. Migliaia ai passeggeri lasciati a terra dai vettori che hanno spesso rischedulato voli se non addirittura cancellato collegamenti con preavviso esiguo, accompagnato da una comprensibile ira dei viaggiatori che si sono rivolti alle compagnie per avere i rimborsi. L'apice si è raggiunto a luglio e agosto, due mesi intensi, caratterizzati dalla ripresa degli spostamenti in aereo, preferiti dagli italiani per raggiungere le mete di vacanza ma con i disservizi dietro l'angolo. Il 67,5% dei problemi riscontrati fa riferimento a voli in ritardo di almeno tre ore rispetto all'orario inizialmente previsto per l'atterraggio e quindi risarcibile con la compensazione pecuniaria di 250, 400 o 600 euro per singolo passeggero. Un crescendo dei ritardi, nel 2022 i fatti voli poco puntuali si fermavano al 54%. Meno cancellazioni quindi per i passeggeri, i numeri affermano che siamo passati dal 43,7% nello stesso periodo analizzato dello scorso anno al 32,5% degli ultimi due mesi. Italia ha rimborso a così studiato i disagi che hanno caratterizzato i passeggeri in Italia nei mesi di luglio-agosto. È monitorato le 10 compagnie più gettonate. Il report consegna la maglia nera alle low cost Witzer, Ryanair e EasyJet che, probabilmente anche per il maggior numero di rotte operate, effettuano disservizi per oltre il 77% rispetto al totale dei voli cancellati e voli in ritardo. La compagnia invece che ha prodotto il minor numero di disservizi a Euroitalia con la percentuale minima dello 0,5%, un netto miglioramento per la compagnia aerea italiana dopo l'esordio nell'estate 2022 quando l'indice si fermò al 2,8%, riducendo di un quinto così i disservizi per collegamenti annullati e voli in ritardo risarcibili. Nella classifica delle performance negative tra le compagnie che viaggiano da e per l'isola figurano anche Iterways con l'11,57%, Volotea 3,78% e Vailing con l'1,76% dei disservizi prodotti quest'estate. Aeroitalia si mostra quindi la più affidabile, un buon biglietto da visita per il vettore che dal 29 ottobre e per i prossimi 12 mesi volerà in regime di continuità territoriale tra l'aeroporto di Alghero e gli scali di Roma-Fiumicino e di Milano-Linate. Dopo l'apertura delle buste con le offerte a ribasso per gestire i collegamenti a tariffe agevolate tra la Sardegna e la penisola, la nuova compagniera italiana infatti ha battuto Iterways che ad oggi garantisce ancora la tratta per il capoluogo Lombardo ma che dal 25 ottobre abbandonerà il Riviera del Corallo mantenendo però i collegamenti a ticket ridotto da Cagliari per Fiumicino e Linate. Aeroitalia che già titolare delle rotte d'Alghero e Olbia per Roma e da Olbia per Milano diventerà dunque il vettore di riferimento degli aeroporti del nord Sardegna. Adesso parliamo dell'artigianato artistico sardo, fiore all'occhiello della nostra produzione artigiana. La Fiera di Mogaro è servita proprio a discutere di questo settore un po' in crisi. C'è stato un convegno domenica a cui ha partecipato anche l'assessore regionale dell'artigianato e del turismo Chessa. Il successo ormai consueto della Fiera di Mogaro ha rimesso al centro del dibattito politico la questione dell'artigianato artistico considerato una risorsa importante per l'isola ma che sta vivendo grandi difficoltà. La storia dell'artigianato sardo tipico e nota dopo lo smantellamento dell'isola e l'istituto sardo per l'organizzazione del lavoro artigiano nel 2006 i maestri o tutti coloro che producevano manufatti legati alla tradizione si ritrovarono senza un punto di riferimento nei luoghi dove esporre la crisi economica prima la pandemia poi ha inferto colpi mortali a molte botteghe che hanno chiuso si sono ritirate dal mercato. La Fiera di Mogaro è riuscita nel tempo a offrire un luogo fisico dove mostrare le produzioni ritrovarsi interfacciarsi con il pubblico ma c'è ancora molto da fare per avviare una vera rinascita dell'artigianato artistico sardo vera immagine per l'isola come stato sottolineato anche nel convegno conclusivo dell'esposizione mogorese. Un confronto tra istituzioni e associazioni di categoria per avere un quadro chiaro su ciò che di urgente c'è da fare innanzitutto chiarendo quale l'importanza e la sua incidenza sull'economia dell'isola. Mi auguro che questa sia una delle prime riunioni che si faranno che ce ne siano altre che si susseguono. L'artigianato comunque è un settore trainante specialmente questo artistico in questi ultimi anni che rappresenta il 19% delle aziende e il 20% dei lavoratori. Sono compresi in questa percentuale anche quelle aziende che comunque producono i prodotti identitari della nostra terra quindi importantissimi perché tramandano anche le nostre tradizioni come quelli che lavorano la filigrana, i tappeti, il suor eccetera. L'artigianato artistico rappresenta sicuramente un settore straordinario di eccellenze ma anche di un valore oltre che economico anche strategico, culturale e simbolico quindi necessita per alcuni interventi a nostro parere che siano in qualche modo risoluti di alcune criticità per cominciare dalla esatta classificazione, identificazione, mappatura di cos'è l'artigianato artistico e cosa non è. All'omento a questo manca, sono abbastanza sfumati i suoi confini. Il tema è oggettivamente di prospettiva, questo è un comparto che rappresenta la memoria storica, le tradizioni, il vissuto della nostra regione. Rischiamo anche che molte produzioni, che questi saperi, le conoscenze, quindi un sapere centenario sparisca e vada davvero in una via che è quella dell'estinzione. Da qui quindi una responsabilità per i sistemi associativi, le imprese, ma per le istituzioni nel creare gli strumenti di supporto, di consolidamento di queste attività e per fare in modo che questa tradizione possa vivere e abbia anche delle possibilità di tipo commerciale per imporre le nostre imprese sui mercati. Un incontro al quale ha voluto essere presente anche l'assessore del turismo e dell'artigianato Gianni Chessa, il quale si è detto pronto ad accogliere qualsiasi proposta per valorizzare il settore, promettendo che promuoverà incontri con i portatori di interesse per avviare il percorso di valorizzazione. Abbiamo già messo a disposizione 71 milioni di euro per circa 4.500 imprese artigiane che ne hanno beneficiato. Ora serve dare continuità, rafforzare la programmazione e sugli investimenti. Il 40% a fondo perduto ha avuto un grande risultato. 4.500 pratiche, grazie anche alle associazioni categorie che sono state veramente fatte in modo impeccabile e soprattutto sono state date a beneficio di coloro che hanno dovuto fare un investimento in un momento difficile. La regione è presente, la regione è vicino all'associazione degli artigiani, è vicino agli artigiani e il 40% è un fatto importante, nuovo, che ha avuto un grande successo. Tutto è pronto per l'edizione 2023 del progetto Navigantes, la nave dell'identità. Il prossimo 9 ottobre una delegazione di circa 500 persone da oltre 60 comuni dell'isola sfilerà per le Ramblas di Barcellona. I colori suonicanti alle tradizioni dell'isola Barcellona. Con Navigantes, la nave dell'identità, il progetto ideato e realizzato dalla Fondazione Mena Carta con il sostegno della regione Sardegna e la partecipazione del Comune di Alghero. Il prossimo 9 ottobre una delegazione di circa 500 persone da oltre 60 comuni dell'isola sfilerà per le Ramblas della capitale catalana. La partenza della nave della Compagnia Grimaldi è fissata per la mattina di domenica 8 ottobre da Porto Torres con arrivo in terra spagnola in serata. La giornata successiva, lunedì 9 ottobre, sarà interamente dedicata alla presenza sarda nelle vie di Barcellona. Il momento clou è fissato per le 15 quando lungo le Ramblas sfilerà la parata con i costumi insieme alle maschere tradizionali e il gruppo di tutte le aree dell'isola selezionate grazie al supporto di UFI, Unione Focolistica Italiana e FITPE, Federazione Italiana Tradizioni Popolari. Oggi parte il viaggio verso Barcellona che sarà ad ottobre dove caricheremo una nave di forte sardità con i suoi colori, i suoi costumi, la sua forte identità. Arriveremo a Barcellona, a Barcellona invaderemo pacificamente le Ramblas, le Ramblas verremo accompagnati dai nostri amici catalani. L'obiettivo di questa iniziativa è quella sì di portare la nostra cultura in giro per il mondo ma soprattutto utilizzando il mare, ci vogliamo ricordare che i nostri antenati hanno utilizzato il mare per viaggiare e cercare fortuna nel mondo. Noi oggi per via mare portiamo la nostra cultura e la nostra identità. La folta delegazione isolana sarà accolta all'inizio delle Ramblas da diversi gruppi della cultura popolare catalana. Inoltre interverrà il consul italiano e saranno presenti i rappresentanti del Circo dei Sardi di Barcellona. Previsti incontri con le istituzioni locali. In Sardegna all'interno di miniera argentiera Mar nasce il fronte mare, un nuovo spazio pubblico riqualificato e destinato alla socialità, al gioco e alla cultura. L'intervento di rigenerazione urbana è promosso dall'associazione Landworks insieme al comune di Sassari e a numerosi partner. L'antico borgo minerario dell'argentiera che da qualche anno è interessato da un grande intervento di rigenerazione urbana si arricchisce adesso del fronte mare, un nuovo spazio destinato alla socialità, al gioco e agli eventi culturali e sportivi che occupa un'area di oltre 500 metri quadrati, riqualificata e restituita alla comunità. Questo nuovo spazio che ha sia una connotazione di carattere sportivo, di aggregazione, ma anche un carattere culturale perché comunque la cultura dello sport, dello stare insieme, della creare uno spazio per la comunità è sempre un messaggio di carattere culturale. Per cui siamo qui a supporto dell'associazione Landworks che ha realizzato questo progetto e siamo appunto molto felici di vedere i bimbi che giocano qua stamattina con Spensiera Tese in questo meraviglioso spazio che si affaccia a fronte di un mare bellissimo, quale è quello dell'argentiera. Il progetto promosso da Landworks insieme al comune di Sassari e numerosi partner pubblici e privati coinvolge professionisti, creativi, studenti e bambini per valorizzare il patrimonio storico materiale e immateriale e prendersi cura degli spazi dismessi o in abbandono della borgata, riconvertendoli in un hub di sperimentazione e produzione culturale al servizio del territorio. L'intervento è tra i vincitori della quarta edizione del premio Creative Living Lab, promosso dalla Direzione Generale e Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e punta a promuovere processi di rigenerazione dei territori periferici realizzando microprogetti innovativi e di qualità in ambito culturale e creativo per la trasformazione e il riutilizzo di spazi interstiziali, di aree e di edifici abbandonati o dismessi e di zone di verde non curate. Il progetto mira a valorizzare un luogo che era un luogo in abbattono, in degrado, usato informalmente come un parcheggio che sta tra il mondo marino e il mondo terrestre e lo ritrasforma da luogo a spazio di vita, quindi l'irida vita attraverso un campo, un campo da gioco su multisport, mettendo al centro il ruolo dello sport e dei bambini, un luogo per divertirsi, per svagarsi, legato alla cultura anche, che noi chiamiamo banchina culturale, un nuovo frontemare per l'argentiera. Vere e propria piazza, affacciata sul mare, il frontemare rappresenta un nuovo tassello del progetto di valorizzazione e rivitalizzazione dell'ex borgo minerario dell'Argentiera, iniziato nel 2019 con l'apertura del museo e centro culturale ibrido a cielo aperto. Dopo l'inaugurazione della Scala, nel 2022, un cineteatro all'aperto in legno, animato per tutta l'estate con spettacoli culturali e ricreativi, l'intervento di riqualificazione del frontemare punta a recuperare un nuovo spazio residuale e in degrado, situato nel cuore e motore pulsante del borgo sulla via Carbonia, che dalla piazza centrale Camillo Marchese porta al mare e si affaccia sui ruderi dei magazzini e del vecchio cinema, un tempo al servizio del sito minerario. Collocata sul vertice estremo di quest'asse, l'area del frontemare è adesso uno spazio di connessione tra la borgata e il mare, che permette di ripensare la relazione tra mondo marino e terrestre, attivando così nuovi immaginari e visioni. Un luogo scenico d'eccezione con una quinta naturale sull'orizzonte e sul mare è emblematico e di fondamentale importanza storica già in epoca mineraria. Questo è un percorso che abbiamo cominciato in città e siamo sbarcati anche nella borgata, in una borgata di eccellenza come l'argentiera. Ci hanno aiutato i ragazzi di Lenua con un progetto che prevede un playground frontemare. Devo dire, non saprei immaginare di meglio un playground di fronte al mare, a questo mare, davvero è qualcosa di straordinario come valorizzazione del luogo, ma anche come possibilità per i nostri ragazzi di giocare e divertirsi, perché questo è lo spirito del playground, che tutti possano liberamente giocare e divertirsi. Ne hanno un gran bisogno, gli spazi sono sempre pochi per loro, le possibilità anche. Benvenuta a questo progetto. Ed è davvero tutto per il momento, io vi ringrazio per averci seguito e come sempre vi auguro buon proseguimento di serata, vi aspetto alle prossime edizioni. Grazie a tutti.